Circuito da fare in spiaggia con il tuo amico non proprio in forma Primo esercizio 50 jump squat alternati 180 gradi Continua con 20 ripetizioni per lato di affondi singoli portando il ginocchio al gomito opposto E poi fai plank massimale con il tuo amico addosso Salvati il circuito e ripetilo 4 volte